Domenica 31 gennaio, festa di San Geminiano, Grandemiglia rimarrà aperto. Ti aspettiamo dalle 9 alle 21, con i servizi e le attenzioni di sempre. Vieni a trovarci e approfitta delle tante occasioni legate ai saldi invernali ancora in corso. Buona festa del patrono a tutti. Grandemiglia, be smart. Grazie a tutti.